Siamo tutti scioccati dopo Italia-Macedonia, l'Italia non si qualifica per la seconda volta di seguito dopo la disfatta del Mondiale 2018, dopo gli spareggi d'Italia-Svezia del 13 novembre 2017. Siamo partiti bene, l'unica cosa che ci mancava è fare i tiri in porta, questo era il primo tempo, poi al secondo tempo siamo iniziati a calare in basso, scivolavamo, non c'entravamo alla porta come al solito come il primo tempo. Si pensava in dei tempi supplementari, ma ai minuti di recupero la Macedonia ci ha fatto un gol, quindi non c'è altro da dire. Ovviamente abbiamo vinto l'Europeo e facciamo sta figura, non riusciamo neanche a qualificarci al Mondiale. Anche se vincevamo, andavamo in finale e ci batteva il Portogallo di Cristiano Ronaldo, ce l'ha poco da fare. Vabbè, vorrà dire che il prossimo inverno, per fortuna, non giocano in estate, perché hanno deciso di giocarli in Qatar, che le temperature sono troppo alte, non si può discutere in estate. Quindi i prossimi mondiali mi vedrò giocare squadre come l'Iran o la Corea del Sud o altre squadre del cavolo. A fa un culo! A fa un culo!